Erano passate da poco le 16.30 a Bucchiani, con località Santa Chiara, nei pressi del Belvedere, quando a causa di uno smottamento di 30 metri di lunghezza e 20 di altezza è venuto giù un tratto di strada, trascinando a valle di tutto e travolgendo due automobili, e solo per miracolo, senza coinvolgere persone. Il tratto, già interessato in passato da lavori di consolidamento, è stato chiuso al traffico e una ventina di persone sono state evacuate. E nel maggio particolarmente piovoso, come da anni, non si ricordava, ieri emergenza fiumi con il superamento della soglia d'allarme sullo sento, l'alento e il Pescara, mentre il Tavo, a causa dell'apertura per ragione di sicurezza della diga di penne, si è riversato sulle campagne di Loreto, Cappelle e Moscufo. Rischio esondazione anche per il Pescara, con la chiusura già dalla pomeriggio di ieri del lungo fiume dei Poeti. Nell'interno, bloccati due viadotti a Montebello, auto intrappolate nel fango a Civitella e varie frane in diverse località del Pescarese. In provincia di Chieti, detto di Bucchianico, chiuso il ponte sul fiume Lento, sulla provincia Le Nove, Chieti, Filetto. Intanto, allarme di Coldiretti, l'Aquila, per le piogge che stanno facendo marcire molte coltivazioni nel Fucino e le previsioni parlano di altre precipitazioni da qui fino alla fine di questo pazzo maggio. Grazie a tutti.